florence scove il scene il gioco della vita e come giocarlo capitolo 10 negazioni e affermazioni quando deciderai una cosa ti riuscirà e sul tuo cammino brillerà la luce job 22 28 tutto il bene che deve essere reso manifesto nella nostra vita è già un fatto compiuto nella mente divina e viene realizzato con il suo riconoscimento da parte nostra e con le affermazioni perciò dobbiamo fare attenzione a decretare che solo l'idea divina si manifesti perché spesso decretiamo tramite le nostre parole inutili fallimento e sfortuna di fondamentale importanza come ho detto in un capitolo precedente è porre richieste chiare se si vuole una casa un nuovo amico una posizione lavorativa o qualsiasi altra cosa buona si deve porre la richiesta per ottenere ciò che ci appartiene per selezione divina ecco un esempio di affermazione spirito infinito apri la via per la mia giusta casa il mio giusto amico la mia giusta posizione ringrazio adesso perché ciò che richiedo si manifesta sotto la grazia e in modo perfetto l'ultima parte della dichiarazione è la più importante una donna che conoscevo fece richiesta per ottenere mille dollari sua figlia venne ferita e la donna ricevette mille dollari di indennizzo per cui la cifra non le arrivò in un modo perfetto avrebbe dovuto formulare la richiesta in questo modo spirito infinito ringrazio ora perché i mille dollari che sono miei per diritto divino sono ora manifestati e mi raggiungono sotto la grazia in modo perfetto quando si cresce nella conoscenza delle leggi spirituali e nella maturazione della propria coscienza finanziaria si dovrebbe esigere che le enormi somme di denaro che si richiedono che sono nostre per diritto divino ci raggiungano sotto la grazia e in modo perfetto è quasi impossibile per l'uomo realizzare più di quello che pensa sia possibile perché è vincolato dalle aspettative limitate del suo subconscio egli dovrebbe invece allargare le proprie aspettative richieste per ricevere grandi quantità di abbondanza le persone spesso si autolimitano nelle loro richieste un mio allievo lavorò con richieste e affermazioni per ottenere 600 dollari entro una certa data ricevette la somma mi chiamò più tardi dicendomi che era molto vicino a ricevere un migliaio di dollari ma che ne aveva ricevuti 600 come da sua richiesta essi limitano il santo di israele salmo 78 41 la ricchezza è una questione di coscienza una leggenda francese ci offre un esempio di questo aspetto un povero uomo stava camminando lungo una strada quando incontrò un viaggiatore che lo fermò e gli disse mio buon amico vedo che siete povero prendete questa pepita d'oro e vendetela e sarete ricco per tutti i vostri giorni l'uomo fu felicissimo della sua fortuna e portò a casa la pepita trovò subito lavoro e divenne così benestante che non vendette la pepita passarono gli anni e divenne un uomo molto ricco un giorno incontrò un povero che camminava per strada lo fermò e gli disse mio caro amico io vi darò questa pepita d'oro che se la venderete vi renderà ricco per tutta la vita il mendicante prese la pepita la fece valutare e scoprì che non era d'oro ma solo di ottone vediamo così che il primo uomo era diventato ricco perché si era sentito ricco credendo che la pepita fosse d'oro ogni uomo ha dentro di sé una pepita d'oro e la sua coscienza d'oro che porta ricchezza nella sua vita nel porre le proprie richieste l'uomo è bene che cominci dalla fine del suo viaggio dichiarando cioè di aver già ricevuto ciò che sta richiedendo prima che mi invochino io risponderò isaia 65 24 la ripetizione delle le affermazioni imprime la credenza nel subconscio non sarebbe necessario ripetere un'affermazione più di una volta se avessimo una fede perfetta non si dovrebbe invocare o supplicare ma ringraziare ripetutamente per aver già ricevuto ciò che abbiamo richiesto si rallegrino il deserto e la terra arida esulti e fiorisca la steppa isaia 35 1 questa gioia quando si è ancora nel deserto lo stato della mente conscia apre la strada per la realizzazione la preghiera del padre nostro è in forma di comando e afferma dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori poi si conclude con una lode perché tuo è il regno tua la potenza e la gloria per sempre così sia datemi ordini sul lavoro delle mie mani isaia 45 11 vediamo dunque che la preghiera è composta di comando e domanda lode e ringraziamento il nostro lavoro più importante è arrivare a credere che a dio tutto è possibile matteo 19 26 ciò è abbastanza facile da credere in astratto ma è molto più difficile da credere quando ci riguarda direttamente e ci troviamo di fronte a un problema a una donna che conoscevo era necessario ricevere un'importante somma di denaro entro un tempo stabilito sapeva che doveva fare qualcosa per ottenere la manifestazione e fece richiesta per una indicazione era in un grande magazzino quando vide un bellissimo tagliacarte rosa smaltato si sentì spinta verso di esso e le giunse un pensiero io non possiedo un tagliacarte che mi permetta di aprire le lettere che contengono assegni così acquistò il tagliacarte anche se la sua mente razionale continuava a essere critica e a considerare quel gesto una stravaganza quando prese in mano il tagliacarte ebbe un flash e vide un'immagine di se stessa mentre apriva una busta contenente un assegno di grandi dimensioni in poche settimane ricevete veramente l'assegno il tagliacarte rosa smaltato era stato il suo ponte di fede attiva molte storie possono essere raccontate sul potere del subconscio quando viene indirizzato nella fede un uomo stava trascorrendo la notte in una casa colonica le finestre della stanza erano inchiodate nel cuore della notte l'uomo si sentì soffocare si alzò nel buio e si fece strada fino alla finestra non riuscì ad aprirla allora fracassò il vetro con un pugno permettendo così all'aria fresca di entrare prese ampie boccate di ossigeno ed ebbe una notte di sonno riposante la mattina dopo scoprì che non aveva rotto il vetro della finestra ma il vetro di una libreria la finestra era rimasta chiusa per tutta la notte si era rifornito lui stesso di ossigeno semplicemente con il suo pensiero e la sua convinzione di star ricevendo ossigeno quando iniziamo a ottenere realizzazioni e manifestazioni non dovremo mai tornare indietro un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal signore è un indeciso instabile in tutte le sue azioni giacomo 1 7 un mio allievo una volta mi fece partecipe di questa meravigliosa tecnica che aveva ideato quando chiedo al padre qualsiasi cosa metto il piede in avanti e affermo padre riceverò niente di meno di quello che ho chiesto anzi di più dopo aver posto la richiesta non dobbiamo più intervenire dopo aver fatto tutto attendete efesini 6 13 questo è spesso il momento più difficile viene la tentazione di rinunciare di tornare indietro di forzare e compromettere quello che è stato fatto si serve solo chi sa star fermo e sa aspettare le manifestazioni avvengono quando lasciamo andare cioè quando interrompiamo il ragionamento razionale così l'intelligenza infinita ha la possibilità di lavorare i desideri tristi dell'uomo hanno risposte tristi e i suoi desideri impazienti portano ritardi o violente soddisfazioni una donna mi domandò perché costantemente perdeva o rompeva i suoi occhiali ci siamo chiesti insieme il motivo e troviamo che la donna diceva spesso a se stesse e gli altri con grande stizza vorrei poterne sbarazzare dei miei occhiali così il suo desiderio impaziente era stato violentemente soddisfatto ciò che avrebbe dovuto chiedere era piuttosto una perfetta visione a occhio nudo quello che aveva registrato nel subconscio era invece semplicemente il desiderio impaziente di liberarsi dei suoi occhiali per questo motivo li perdeva e rompeva continuamente due atteggiamenti mentali causano perdita la sottovalutazione come nel caso della donna che non apprezzava il marito e la paura della perdita che crea un'immagine di perdita nel subconscio quando siamo in grado di lasciare andare il nostro problema quindi gettare il nostro peso avremo istantanea manifestazione una donna aveva un appuntamento in una giornata dal tempo burascoso e il suo ombrello si era rovinato stava per incontrare alcune persone che non aveva mai visto prima e non voleva fare il suo primo incontro con un ombrello fatiscente non poteva gettarlo via perché non era suo e in preda alla disperazione esclamò dio prenditi carico di questo ombrello io non so cosa fare un attimo dopo la voce di un uomo dietro di lei le disse signora volete che il vostro ombrello sia riparato io sono un riparatore di ombrelli e ho il mio negozio proprio qui vicino l'uomo le riparò l'ombrello e lei poteva andare tranquillamente al suo appuntamento c'è sempre un riparatore di ombrelli a portata di mano lungo la nostra via quando mettiamo l'ombrello o la situazione nelle mani di dio se capita di fare una negazione si deve sempre far seguire a una negazione un'affermazione una notte era molto tardi ricevete una telefonata da un uomo che non avevo mai visto e che mi chiedeva un trattamento dalla voce sembrava molto malato fece allora questa affermazione io nego l'apparenza di questa malattia non è reale pertanto non può essere registrata nella sua coscienza quest'uomo è un'idea perfetta nella mente divina pura sostanza che esprime perfezione non c'è spazio né tempo nella mente divina perciò l'affermazione raggiunge istantaneamente la sua destinazione e non ritorna mai vuota ho trattato pazienti a distanza io negli stati uniti e loro in europa i risultati erano ugualmente istantanei mi viene spesso chiesta la differenza tra visualizzazione e visione la visualizzazione è un processo mentale governato dalla mente conscia la visione è un processo spirituale governato dall'intuizione o mente superconscia chi pratica le leggi spirituali della mente dovrebbe allenare la mente a ricevere questi lampi di ispirazione e poi portare alla luce le immagini divine attraverso il lavoro mentale quando un uomo o una donna possono dire io voglio solo ciò che dio vuole per me una nuova serie di progetti vengono loro dati dal maestro architetto il dio interiore il pieno divino per ogni individuo trascende i limiti della mente razionale e contiene sempre salute ricchezza amore e perfetta espressione di sé più di un uomo a causa dei limiti che gli stesso si pone sta costruendo per sé stesso con l'immaginazione una capanna quando potrebbe e dovrebbe costruirsi un palazzo ancora se si cerca di forzare una manifestazione attraverso la mente razionale la si conduce a un punto morto mi affretto e non voglio tardare a osservare i tuoi comandi dice il signore salmo 119 60 dobbiamo avere fede e agire attraverso l'intuizione e seguire le indicazioni che ci vengono date nient'altro abbi fede nel signore e attendi paziente confida in lui ed egli porterà ogni cosa a compimento ho visto la legge in azione nei modi più sorprendenti una mia allieva aveva necessità di entrare in possesso della somma di 100 dollari per il giorno seguente doveva ripagare un debito di vitale importanza io pronunciai la parola affermando che per lo spirito non è mai troppo tardi e che la ricchezza era a portata di mano quella sera la donna mi telefonò e mi riferì del miracolo mi disse che le era venuto in mente un pensiero che la spingeva ad andare in banca aprire la sua cassetta di sicurezza ed esaminare alcuni documenti che in essa erano contenuti seguì l'intuizione andò in banca aprì la cassetta di sicurezza sfogliò i documenti e si accorse che in fondo la cassetta c'era una banconota nuova da 100 dollari era sbalordita era certa di non avercele rimessi lei e più volte aveva esaminato quei documenti senza trovare denaro chi può dire razionalmente cosa è successo potrebbe essere stata una materializzazione come gesù materializzò i pani e i pesci con il progredire della sua conoscenza l'uomo raggiungerà la fase in cui la sua parola si farà carne o si materializzerà istantaneamente come tutti i miracoli di gesù è racchiuso un enorme potere nel solo nome di gesù cristo egli si erge tra gli uomini per la verità che ha reso manifesta e qualunque cosa chiederete nel mio nome io la farò giovanni 14 13 la potenza di questo nome conduce il praticante nella quarta dimensione dove è liberato da tutte le influenze astrali e psichiche e dove diventa incondizionato e assoluto come dio stesso ha incondizionato e assoluto ho visto molte guarigioni compiute utilizzando le parole nel nome di gesù cristo cristo è sia una persona che un principio è il cristo in ogni uomo è il suo redentore ed è la sua salvezza il nostro cristo interiore è il nostro sé quadrimensionale è l'uomo fatto a immagine e somiglianza di dio questo è il sé che non ha mai fallito non ha mai conosciuto malattia o dolore non è mai nato e non è mai morto è la risurrezione e la vita eterna di ogni uomo e di ogni donna nessuno viene al padre salvato dal figlio ciò significa che dio l'universale agendo nel particolare l'individuo diventa il cristo nell'uomo e spirito santo significa dio in azione così tutti i giorni in ogni istante della nostra vita ognuno di noi manifesta la trinità del padre del figlio e dello spirito santo l'uomo deve sviluppare l'arte di pensare il maestro pensatore è un artista ed è attento a dipingere solo i disegni divini sulla tela della sua mente egli dipinge queste immagini con colpi magistrali di potere e decisione avendo fede perfetta che non vi è alcuna forza in grado di rovinare la loro perfezione e che esse si manifestano nella sua vita perché l'ideale diventa sempre reale per portare il suo paradiso sulla sua terra e questo è l'obiettivo finale e il grande traguardo del gioco della vita le semplici regole per giocarlo sono fede senza paura non resistenza e amore possa ogni lettore essere ora libero libero da ciò che lo ha tenuto in schiavitù nei secoli libero da ciò che si è frapposto tra lui e ciò che gli appartiene per diritto divino e possa conoscere la verità che lo rende libero libero di compiere il suo destino e di portare alla più splendente manifestazione e alla più rigogliosa realizzazione il piano divino della sua vita salute ricchezza amore e perfetta espressione di sé che siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente isaac watts grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti